Fiamme nel centro storico di Sassano nel pomeriggio di ieri. Una vecchia abitazione abbandonata da tempo ha preso improvvisamente fuoco, provocando spavento nella comunità locale e soprattutto tra i residenti dell'area che hanno allertato celermente i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Un intervento immediato, seppur complicato da parte dei caschi rossi, ha consentito la messa in sicurezza dell'area prima che potesse verificarsi il peggio, anche perché nei pressi della vecchia abitazione si trovavano bambini in tendi a giocare. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il vicolo dove è ubicata la vecchia casa di Roccata infatti risulta poco percorso dalle persone e anche la casa che affianca la struttura andata in fiamme pare risulti disabitata. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno dovuto faticare non poco prima di poter raggiungere con i mezzi di soccorso l'area interessata dalle fiamme e poi anche per procedere con lo spegnimento dell'incendio, dato che al suo interno erano stati accatastati mobili e suppellettili facilmente infiammabili, come ad esempio materassi, che i caschi rossi hanno dovuto separare per poter procedere allo spegnimento completo delle fiamme, riuscendo comunque in breve ad aver ragione dell'incendio e a procedere con i rilievi per effettuare la relazione da consegnare ai carabinieri al fine di capire quali siano state le cause scatenanti delle fiamme. Sul posto, appena lanciato l'allarme, oltre all'arrivo dei carabinieri, era presente anche l'assessore e beni patrimoniali del comune di Sassano Pio Biancamano, al fine anche di comprendere le condizioni dell'edificio e per disporre l'immediata messa in sicurezza dell'intera area, che è stata transennata per evitare pericoli per le persone. L'assessore Biancamano ha infatti dato subito disposizione al responsabile della protezione civile di pubblica assistenza ANPAS, l'Orchidea Emergenza, Carmine Aquino, affinché provvedesse ad apporre le necessarie barriere per evitare il passaggio nelle vicinanze dell'abitazione. Nelle prossime ore, anche attraverso un confronto tra le relazioni dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione cercheranno di capire la natura dell'incendio, che non si esclude possa essere di origine dolosa.